Le maglie della rete del Green Pass diventano sempre più strette con l'ultimo giro di vite del governo che dal 15 ottobre estenderà l'obbligo della certificazione verde anche ai dipendenti delle aziende private. L'onere della verifica spetterà ai datori di lavoro con sanzioni che vanno dai 600 ai 1.500 euro per chi non si adegua alla normativa e per chi omette il controllo e con sospensione prevista fino all'esibizione del certificato verde e comunque fino alla fine dell'emergenza sanitaria attualmente fissata al 31 dicembre del 2021. Graziano Di Costanzo, direttore della CNA Abruzzo, cosa cambierà? Cambierà che finalmente metteremo uno strumento che metterà in sicurezza tutte le persone, che è la cosa principale, noi abbiamo messo sempre al primo punto la salute, ma soprattutto non consentirà di affrontare l'autunno in tranquillità anche economica, ricordiamo tutti quello che è successo l'anno scorso con l'Abruzzo in rosso e quindi con tutte le attività economiche in ginocchio. Punti di forza e criticità di questa nuova normativa che cambierà comunque le vite di tanti lavoratori? Sicuramente i punti di forza sono quelli che ho detto, cioè noi procederemo verso la vaccinazione, oltre l'80% della popolazione, siamo i pari a 75, l'Abruzzo è in linea con le medie nazionali e quindi proteggeremo la nostra salute e quella degli altri e nello stesso tempo consentiremo a questa ripresa di diventare robusta e stabile. Criticità sono quelle legate un po' alla parte burocratica, cioè i datori di lavoro dovranno controllare dal 15 ottobre che i propri dipendenti abbiano o fatto il vaccino o abbiano un tampone valido di 48-72 ore. Per quelli che hanno fatto il vaccino il Green Pass dura 8-9 mesi, quindi non c'è bisogno del controllo giornaliero, per gli altri sì. Chiaramente c'è una parte di popolazione che non ha ancora deciso di vaccinarsi, noi invitiamo caldamente a farlo perché il vaccino è l'unica protezione contro il virus. Questo tipo di normativa mette fine anche un po' a quella diatriba che contrapponeva per esempio clienti e dipendenti di, penso ai ristoratori, per cui chi entrava in un locale chiuso doveva comunque esibire il Green Pass, ma chi lavorava non era tenuto ad avere un Green Pass. Sono assolutamente d'accordo. La questione riguarda tutti, qui abbiamo un paio di bar qua intorno a noi, noi andiamo a prendere un caffè, io esibisco il Green Pass quando entro perché se lo prendo al chiuso e devo sapere che anche quello che mi sta servendo ha un Green Pass, quindi o è vaccinato o non è contagiato. Ma questo si fa per la salute di tutti e per il rilancio dell'economia di tutti, quindi va bene così. Nel pubblico dopo cinque giorni di assenza ingiustificata si passa alla sospensione, nel privato la sospensione scatta immediatamente. Ripeto, chi ritiene di non vaccinarsi o di non esibire un Green Pass che è negativo, si sta a casa senza percepire lo stipendio. Naturalmente hanno introdotto la norma che non c'è il licenziamento, quindi non si procede con ulteriori sanzioni di nessun carattere, però diciamo questa è la norma e questo è il modo e noi ne siamo convinti, lo ribadisco, per uscire da queste situazioni.